Lunedì mattina Papa Francesco nel Palazzo Apostolico Vaticano ha ricevuto il Presidente della Repubblica di Haiti, il signor Michel Joseph Martelly. È stato espresso con piacimento per le buone relazioni tra Haiti e Santa Sede, soffermandosi sul contributo sociale che la Chiesa dà al Paese, soprattutto in campo educativo e sanitario, come pure nei settori della carità. Inoltre è stata rilevata l'importanza di continuare l'impegno nella ricostruzione di Haiti, favorire il dialogo sincero tra le diverse forze istituzionali per la riconciliazione del Vete Comune sia a livello interno che estero.